Alla fine ha avuto ragione lui. La classifica pubblicata sul solo 24 ore circa l'assenteismo nella pubblica amministrazione non ha sorpreso più di tanto il sindaco di Locri, che più volte negli anni scorsi ha denunciato questo stato di cose all'interno del suo comune. Sì, purtroppo sì, un primato negativo, un'altra pagina triste per questa città, oggi dati confermati da fonti ufficiali, riferita all'anno 2015, un tasso di assenteismo dovuto in particolar modo all'assenza di malattia veramente fuori luogo, il doppio della media nazionale. È un dato inaccettabile, come già denunciato da me, dall'amministrazione in passato, è denunciato medialicamente, è denunciato alle preposte autorità e tra l'altro anche nei mesi scorsi abbiamo licenziato e in tronco un dipendente beccato fuori, noi di lavoro facciamo fuori dalle mansioni assegnate e tra l'altro anche nei giorni scorsi mi risulta che il tribolo di Locri ha rigettato il ricorso del dipendente. Siamo molto attenti a questa problematica perché dobbiamo erogare i servizi ai cittadini, dobbiamo farlo attraverso i nostri dipendenti quali spesso li abbiamo anche ripresi da questo punto di vista e perché se noi non abbiamo la collaborazione dei dipendenti comunali siamo poi in difficoltà nei confronti dei cittadini.